E' guerra di cifre tra Regione Lombardia e Lega Ambiente in materia del contendere la qualità dell'aria e i livelli di inquinamento. Dopo il dossier Malaria che inchioda soprattutto le città del nord a dati negativi alla responsabilità di aver registrato un numero di sforamenti superiori a quelli consentiti sia di polveri sottili che di ozono arrivano i calcoli di Arpa Lombardia. Concentrazioni medie delle PM10 ridotte del 34%, numero di giorni di superamento diminuito del 59% nel periodo dal 2005 al 2018 e giorni di superamenti dei limiti ridotti in tutti i capoluoghi lombardi. I dati sono stati presentati dall'assessore regionale all'ambiente, clima, raffaele e cattaneo. Cifre che secondo la Regione metterebbero in luce un trend di miglioramento e quindi gli effetti positivi di alcune politiche attuate. Da qui l'invito dell'assessore a giudicare scientificamente i dati sulla qualità dell'aria ed eventualmente a contestarli nel merito e nel metodo il rapporto Malaria, spiega Cattaneo, analizza ad esempio solo due PM10 e ozono, ma gli inquinanti sono molti di più. Io sfido Lega Ambiente sulla scientificità dei dati che abbiamo presentato quest'oggi, dati basati sulla metodologia europea e su un sistema di rilevazione fatto da 85 stazioni curate da Alpa Lombardia con rigoroso metodo scientifico. Questi dati ci dicono che da Malaria, che è il titolo del rapporto di Lega Ambiente, in realtà dovremmo cambiare il titolo e chiamare Miglioraria il rapporto sulla qualità dell'aria in Lombardia. Perché il trend di miglioramento per tutti gli inquinanti, non solo per quelli che cita Lega Ambiente, che sono solo il PM10 e l'ozono, ma anche per molti altri. Il biossido di zolfo, il monossido di carbonio, il benzene, soprattutto gli ossidi di azoto, che sono l'inquinante più critico oggi anche per la salute, dicono che c'è una Lombardia in Miglioramento. In Lombardia la riduzione media annuale nel periodo 2000-2014 in tutte le stazioni è stata più del doppio rispetto alla media europea. In Lombardia si è ridotto ogni anno dell'1,3 microgrammi per metro cubo, mentre in Europa, nello stesso periodo, la media si è attestata nelle stazioni di fondo a meno della metà, meno 0,6, e nelle stazioni da traffico, meno 0,9. Nei capoluoghi di provincia le concentrazioni mediano e il numero di superamenti di PM10 più bassi sono stati registrati a Sondrio, Lecco e Varese. Le maggiori riduzioni dal 2005 per le concentrazioni medie si sono verificate a Sondrio, Mantova, Lodi e Monza, mentre per il numero di superamenti Sondrio, Mantova, Monza e Brescia. Cremona non fa parte di questi successi.